Buongiorno, sono Ennio Zanoletti, ci troviamo al ristorante Uvalara in Monticelli Brusati. Oggi vi preparerò una ricetta di tagliolini freschi agli scampi e pomodorini. Gli ingredienti sono scampi, tagliolini freschi, prezzemolo, pomodorino, asparago, salsa di pomodoro e uno spicchio d'aglio. Naturalmente sale, pepe e olio. A questo punto abbiamo già soffritto l'aglio nell'olio, possiamo togliere l'aglio e cominciamo a far cogliere i nostri ingredienti. Gli mettiamo un po' di pomodorino, un po' di esparagi, un po' di salsa per condire meglio lo scampo e poi aggiungiamo gli scampi. e il sugo è pronto. Diciamo a vedere se la pasta è cotta. Lo facciamo saltare per condirlo bene. A questo punto siamo pronti per impiantare i nostri tagliolini. Cerchiamo di appoggiare il tutto, il sudetto, sopra il tagliolino. A questo punto mi resta solo da dirvi buon appetito!